Immerso in uno splendido parco con vista sulle montagne lecchesi, nel verde della Brianza, si trova il ristorante La Casupola, dove potrete festeggiare il giorno più importante della vostra vita, godendo di atmosfere uniche e suggestive. In un contesto da sogno, il ristorante La Casupola metterà a vostra disposizione una splendida sala con giardino privato, uno spazio elegante e di classe dove realizzare la vostra favola, in base al vostro stile e adatta alle vostre esigenze in termini di capienza. Durante il periodo estivo, la cena per il vostro ricevimento di nozze può essere organizzata nella romantica villa della piscina o nel vasto parco che circonda la struttura. Presso La Casupola è possibile realizzare il vostro rito nuziale in loco, con un'autentica e romantica cerimonia, in una location unica per un matrimonio davvero indimenticabile. Da oltre 40 anni la Casupola organizza con passione il ricevimento di nozze, mettendo a disposizione dei propri clienti la propria esperienza e professionalità, divenendo il vostro fidato wedding planner, offrendovi competenza, cortesia e disponibilità. La cucina del ristorante elaborerà menu personalizzati in base alle vostre esigenze, ma rispettando la stagionalità degli ingredienti per garantire un risultato gastronomico professionale e di classe. Il ristorante La Casupola è il luogo speciale dove il vostro sogno nuziale diventerà realtà.